Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura la politica dopo la vittoria del centrodestra alla provincia di Pescara e le dimissioni dell'assessore Giuliano Diodati al comune di Pescara, il consigliere regionale Donato Di Matteo, ideatore della lista Bruzzo Insieme, lancia le sue civiche attaccando il Partito Democratico ma esprimendo un giudizio positivo sulla eventuale candidatura di Giovanni Lenini a presidente per la coalizione di centrosinistra. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Critiche al Partito Democratico ma anche apprezzamento per un'eventuale candidatura di Giovanni Lenini a candidato presidente per il centrosinistra di Matteo. Una posizione su due binari? Un binario per un uomo che secondo me oramai ha una candidatura istituzionale di grande prestigio, che è una persona competente, che è in grado di avere le giuste relazioni per far ripartire la nostra regione. Però c'è il problema di quale sarà la coalizione che lo sosterrà e sono tutti leali in questa coalizione per sostenere, questi sono i due problemi, perché l'errore più grave che può essere fatto è che lui fosse oggetto di un agguato, che lo fanno perdere e poi facciamo fare una brutta figura, secondo me, la persona più prestigiosa che abbiamo. Questo è un partito democratico di cui io non faccio parte più da diverso tempo, da alcuni anni, un partito democratico pieno di lotte intestine, non io che combatto contro qualcuno altro, come si vuole dire, ma è pieno di lotte intestine, gente che hanno ambizioni personali che pur di colpire altri fanno tutto quello che è possibile fare in maniera anche cattiva. Io penso che non ci siano le condizioni giuste di serenità se loro non mettono in campo un atto di umiltà e di autocritica. Ci sono già le liste civiche pronte per le prossime elezioni, le vostre liste civiche con tante personalità importanti, amministratori ma anche persone della società civile, ma c'è il rischio che qualcuno paventa che Di Matteo possa correre al fianco del centrodestra alle prossime elezioni? Ma noi se non c'è una coalizione ampia, leale, con una strategia, un programma condiviso, con a capo una figura di prestigio come quella di Giovanni Legnini, noi siamo svingolati da questioni partitiche, perché noi siamo un movimento civico che guarda la gente, vuole fare la politica per la gente e vuole rendere partecipe la gente della politica. Per cui noi saremo svingolati e sceglieremo i programmi e gli accordi possibili che vanno in una direzione di fare quello che noi pensiamo. Ma Di Matteo non ha mai pensato a candidarsi presidente della regione dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi? No, per una questione di peso sarei lì. Questo andava bene per rendi di altro tipo. In regione ci vuole uno snello come D'Alfonso. Andiamo avanti e continuiamo a guardare in casa del Partito Democratico, però ci spostiamo nel Terramano perché dopo la sconfitta alle provinciali con la vittoria di Di Bonaventura, il Partito Democratico di Terramo si sta frantumando tra autosospensioni ed abbandoni dai vertici e di molti amministratori. Dito puntato sui traditori che avrebbero fatto mancare voti certi al candidato di centrosinistra, la presidenza della provincia di Terramo, Giuseppe D'Alonso. Sentiamo il resoconto di Tania Bonici Castelli. Decisioni shock nel Partito Democratico di Terramo dopo la recente sconfitta in provincia. Autosospensioni e minacce di abbandonare per sempre il PD da parte di autorevoli vertici provinciali e di tanti amministratori del territorio. Giuseppe D'Alonso, candidato alla presidenza della provincia per il centrosinistra, è il primo ad autosospendersi. Quella compattezza sbandierata dal PD e che sulla carta lo avrebbe dovuto far vincere, si è invece sgretolata a causa del fuoco amico. Dito puntato sui probabili traditori, Tommaso Ginobble che avrebbe fatto mancare i voti di Roseto e il segretario provinciale Gabriele Minosse. Certo, il momento della delusione e dello sconforto è già passato. Adesso c'è l'idea di un nuovo programma, un nuovo progetto, una nuova linea che è all'interno, come dicevo prima, della cornice del centrosinistra, perché noi non perdiamo la bussola, però c'è da dire che bisogna essere attenti e soprattutto chi ha la gestione dei futuri appuntamenti deve avere un pragmatismo intelligente per fare in modo che anche noi, e quando dico noi dico un'associazione che a breve presenteremo sul territorio, convergiamo in quella direzione, altrimenti siamo pronti a fare altre scelte. Momento delicato dunque per il Partito Democratico di Teramo, anche in vista delle prossime elezioni regionali. Il capogruppo PD alla Regione, Sandro Mariani, sposa anche lui la strada dell'autosospensione e immagina, perché no, un possibile nuovo percorso civico alla tornata elettorale di febbraio prossimo. Quello che oggi è accaduto è che un gruppo di persone innanzitutto hanno cominciato a fare un distingo all'interno del partito, perché non è più possibile andare avanti in questa maniera, dove il fuoco amico ogni volta va in onda e pregiudica i risultati anche quelli più certi, poi in politica non c'è mai nulla di certo, però diciamo che l'ultima volta è abbastanza eclatante quello che è accaduto in provincia, da una parte. Dall'altra parte sono persone che hanno idee diverse all'interno di questo gruppo, persone che naturalmente hanno deciso di fare gesti, di intraprendere gesti più concreti, più eclatanti, come quello di autosospendersi. altre persone che invece vogliono semplicemente distinguersi, altre ancora, come il sottoscritto che hanno annunciato che se si prosegue così, in questa maniera, senza prendere decisioni, senza essere chiari, facendo assomigliare il partito a un autobus che uno sale e scende a proprio piacimento, penso anche di abbandonare il partito. Lei ha intenzioni di presentarsi in una lista civica alle regionali? Qualcuno dovrebbe anche spiegarmi bene se si corre con i simboli di partito, perché sento dichiarazioni di ogni tipo. Poi, una volta che arrivano queste risposte, vi valuteremo e vedremo. Andiamo avanti e ci spostiamo a Chieti. Il sindaco Umberto Di Primio all'attacco dopo l'ennesimo affronto di una parte del centrodestra, questa volta sulla questione della vendita della farmacia comunale. Il primo cittadino parla di traditori, ma va avanti, non escludendo però un atto forte come le dimissioni. Vediamo insieme l'intervista. Sindaco, cosa succede nella giunta di Primio? Si parla di scricchioli, di possibili dimissioni, di giunta che potrebbe anche cadere da un momento all'altro. Cosa c'è di vero? Che cada la giunta è difficile. Che io possa dimettermi se tirano troppo la corda è molto facile. Non ho mai accettato i ricatti, non ho mai accettato che la politica fosse lo strumento per servire qualcuno. Noi facciamo amministrazione perché vogliamo portare benefici ai cittadini, vogliamo che la nostra città sia una città che possa trarre il massimo dal nostro spirito di servizio e dalla nostra attività. Per dire in altre parole, i tradimenti non ci appartengono. Chi oggi tradisce il voto che i cittadini di centrodestra hanno dato loro, votando con il centrosinistra, credo che dovrebbe farsi un esame di coscienza. Chi dice di volessi candidare a regionali con il centrodestra non può votare con il centrosinistra. E soprattutto c'è un altro discorso che è quello della serietà e della responsabilità. Oggi non votando quella delibera, ieri non votando quella delibera, hanno dimostrato quelle persone di essere fortemente irresponsabili, di non voler bene la città, di volere il male di questa città. Perché non incassare un milione e 300 mila euro per il comune vuol dire tagliare un milione e 300 mila euro dal bilancio. Che a fine anno vuol dire togliere i servizi sociali, togliere i servizi della scuola, togliere i servizi ai cittadini. Vuol dire in qualche modo distruggere tutto quello per il quale noi abbiamo lavorato in questi anni. E c'è anche il rischio che possa andare peggio, perché se non riuscissimo a fare questa operazione, ovviamente il problema diventerà un problema di bilancio e di sostenibilità del bilancio. Poi c'è il futuro, che è quello in cui io credo e in cui voglio continuare a combattere. Il che vuol dire che non chiudo le porte in faccia a nessuno, non accetto ovviamente i ricatti, ma non chiudo porte in faccia a nessuno. Se sul programma di fine mandato che stavamo predisponendo, e del quale adesso fa parte anche la vendita della farmacia, troveremo l'accordo, allora si va avanti. Altrimenti non c'è problema. Io l'ho ricevuta nel mio studio di avvocato, altri non so che cosa potrebbero fare al mattino se non dovessimo andare in Consiglio Comunale. Però anche prima della questione relativa alla vendita della farmacia comunale, la sua giunta aveva perso qualche pezzo. Ci sono dei traditori, voglio dire, ci sono dei traditori, quei consiglieri eletti con Forza Italia e qualcun altro in qualche altro partito, che siccome non hanno avuto l'incarico da assessore, hanno deciso di stare dall'altra parte. Questa è la verità, inutile girarci intorno. Ci sono soggetti come Rispoli, Troiano ed altri, che votano con il centro-sinistra. Voleva fare l'assessore Rispoli, non li abbiamo fatto fare perché non lo poteva fare, e adesso, dopo tre anni di silenzio assordante, scopriamo chi vota col centro-sinistra. Lasciamo la politica adesso per aprire la pagina sindacale. Al Ministero del Lavoro è stata prorogata la cassa integrazione per i 1.648 lavoratori della Pilkington Italia SPA nei due stabilimenti di San Salvo, in provincia di Chieti, e di Settimo Torinese, in provincia di Torino. Lo fa sapere con una nota il Ministero del Lavoro, spiegando che l'azienda ha presentato un piano di riorganizzazione che consente la proroga degli ammortizzatori sociali. Il Ministero del Lavoro, si legge nella nota, continua nell'azione di salvaguardia dell'occupazione portata avanti dal Ministro Luigi Di Maio. E continuiamo con la sindacale pronta ad entrare nelle aule di giustizia alla vicenda della presunta aggressione ad un sindacalista della Wilm all'interno dello stabilimento San Marco di Lanciano. Vediamo i dettagli nel servizio. Si sposta sul piano giudiziario la querelle che vede contrapposti un sindacalista della Wilm e la San Marco SPA di Lanciano. Un dipendente, RS Wilm, è stato aggredito a fine ottobre e denunciano i metalmeccanici della Wilm. Nessun episodio di violenza né verbale né fisica replica l'azienda tramite il legale. Davanti ai cancelli della sede aziendale, nella zona industriale della città, si è svolta la manifestazione di solidarietà. Nicola Manzi, coordinatore Wilm e Chieti Pescara. I fatti saranno accertati dalla giustizia. Questa è la parola d'ordine che oggi ci accompagnerà perché l'azienda, mentre scrive sulla stampa, ha già provveduto ieri sera a far pervenire al lavoratore una lettera di contestazione disciplinare che avrà la difesa di tutta la nostra organizzazione. La Wilm sarà accanto a questo lavoratore per difenderlo questo atto contro, questo atto che noi riteniamo indegno nei confronti di un rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Il sindacato ha già fatto alcuni passi in merito alla sicurezza della San Marco. Nel mese di settembre c'è stato già un primo infortunio. Succeduto un altro che è accaduto a fine ottobre. Mi riferiscono che anche l'altro giorno ce n'è stato un altro per cui ha fatto diversi incontri in sede di Confindustria con FIM, FIOM, Wilm, RSU e soprattutto con l'RSPP dell'azienda per valutare tutti i problemi di sicurezza di questo stabilimento. Fatti gli incontri, i risultati stanno sotto gli occhi di tutti. Almeno tre infortuni negli ultimi mesi. Sta dicendo che questa non è un'azienda sicura per i lavoratori? Io dico che è un'azienda che deve stare attenta come tutte le aziende di questo paese a rispettare la sicurezza nei luoghi di lavoro e per questo ci sarà sicuramente la giustizia a far valere questo nostro diritto. Questa è una manifestazione di solidarietà nei confronti di un RLS, RSU della Wilm che mettendoci la faccia e non solo perché parliamo di un padre di famiglia di uno che da 17 anni lavora qua dentro ha cercato di tutelare i diritti dei lavoratori. Per cui quello che faremo domani lo decideremo. Adesso c'è il primo punto, difendere questo lavoratore dalla lettera di contestazione e lo faremo con tutte le nostre forze e con tutta la nostra organizzazione. Cambiamo argomento. Il presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli lancia una mobilitazione contro il paventato temporaneo spostamento del terminal bus della stazione Tiburtina di Roma ad Anagnina invitando i sindaci abruzzesi, le organizzazioni economiche e sociali e i rappresentanti dei viaggiatori pendolari alla conferenza stampa concordata con la regione Lazio che ci sarà lunedì prossimo alle ore 11 a Roma negli spazi del terminal bus di Tiburtina per sottolineare, dice Lolli, il no dell'intera comunità regionale alla delibera della giunta capitolina datata a 16 ottobre. Lolli ha ribadito il valore strategico del collegamento su gomma fra Roma e Abruzzo, fondamentale nel quotidiano scambio dei rapporti tra Abruzzo e Lazio e nelle prospettive del sistema di infrastrutture per economia, turismo, servizi e a favore dei cittadini e delle imprese. La scelta della giunta capitolina di spostare il capolinea dei bus determinerebbe per Lolli un danno alle migliaia di pendolari abruzzesi e non che ogni giorno si recano nella capitale. Andiamo nel capoluogo d'Abruzzo invece all'Aquila prima risposta dei carabinieri per contrastare la grande ondata di furti in città fermate, 4 persone controllate, tantissimi veicoli fondamentale la collaborazione dei cittadini con le loro segnalazioni vediamo insieme il servizio di Daniela Rosone prima fondamentale risposta dei carabinieri dell'Aquila contro l'ondata di furti che ha interessato il territorio aquilano negli ultimi tempi tra ieri e i giorni scorsi sono state fermate infatti 4 persone ritenute coinvolte nei furti in abitazione che ci sono stati di recente fondamentale in questo caso il contributo dei cittadini che hanno segnalato numerose volte gli episodi ai carabinieri dell'Aquila due cittadini rumeni intanto sono stati denunciati per possesso ingiustificato di Grimaldelli al riciclaggio ed altri due pregiudicati sono stati arrestati per i furti in abitazione nella serata di ieri i carabinieri hanno denunciato due cittadini rumeni come spiegano dal comando l'operazione di servizio frutto della quotidiana attività preventiva di controllo del territorio ha permesso di individuare, bloccare, identificare i due soggetti di 21 e 17 anni mentre a bordo di un furgone bianco si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni della periferia cittadina nel momento del controllo i militari hanno perquisito il mezzo riuscendo a rinvenire erano occultati all'interno del cassone chiavi e Grimaldelli utili per lo scasso i successivi accertamenti hanno permesso di verificare che due luomini per ostacolare un possibile controllo e anche l'identificazione del veicolo avevano provveduto a cambiare pure la targa del furgone apponendone una di nazionalità burghera a posto di quella italiana originariamente appartenente al mezzo questa condotta ha fatto sì che ci fosse dunque il reato di riciclaggio i controlli e le verifiche effettuate negli ultimi due giorni inoltre hanno permesso di arrestare ad Ovindoli due pregiudicati per reati contro il patrimonio un marocchino e un italiano domiciliati nella zona di Avezzano ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione hanno identificato anche nell'arco notturno oltre 500 persone e 360 veicoli che sono transitati lungo le strade del capoluogo e le principali arterie stradali della provincia fondamentali direttrice di collegamento con le regioni limitrofe l'attività di controllo del territorio dicono dal comando provinciale dei carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni molto importanti sono state le segnalazioni da parte dei cittadini al 112 Ad Avezzano sarà interpellata anche la Corte dei Conti sulla questione dello spostamento del mercato del sabato dal centro al nord della città L'opposizione contesta la decisione della giunta del sindaco De Angelis il quale però continua a difendere quanto fatto spiegando che garantisce grandi potenzialità agli ambulanti sentiamo il servizio di Ludovica Pelliccioni A Avezzano non si placano le polemiche sullo spostamento dello storico mercato del sabato dal centro al nord della città tutta l'opposizione ieri ha tenuto una conferenza stampa in cui invita la giunta del sindaco Gabriele De Angelis a cambiare la delibera da dove sarebbe scomparsa la temporaneità dello spostamento sotto la lente di ingrandimento oltre alla questione sicurezza alla base della decisione dell'amministrazione comunale e anche le spese che lo spostamento ha comportato Abbiamo presentato proprio una mozione per far rimanere il mercato storico nella città di Avezzano doveva rimanere qui al centro città questa è stata veramente una cosa strana non chiara ecco perché chiaramente sicuramente chiederemo agli organi competenti di fare verifiche e di verificare perché c'è qualcosa che non va come si usa in tutte le città e dai tempi dei tempi normalmente era in centro città la scelta abbastanza arrogante visto che era contro la volontà degli ambulanti e contro anche la volontà di tanti cittadini è stata presa in maniera unilaterale dall'amministrazione De Angelis agli esponenti dell'opposizione risponde il primo cittadino che ricorda come la decisione sia scaturita da questioni tecniche legate alla normativa vigente De Angelis si dice solidale con gli ambulanti che hanno fatto un mese di sciopero contro lo spostamento e spiega che il nuovo mercato ha delle enormi potenzialità però per questioni anche di dimensione di questo mercato non siamo riusciti a trovare una zona vicina alla parte centrale e l'amministrazione aveva il dovere di proporre comunque un'alternativa per farli lavorare e quindi abbiamo proposto quell'area che rispetta tutti quante le caratteristiche per poter far diventare quel mercato ancora più attrattivo di quello che era prima ci sono più di 14 mila residenti c'è una logica del circuito là sopra ci sono tanti parcheggi e soprattutto tante persone che vengono da fuori ci hanno fatto capire che gradiscono questa nuova location in quanto è più facilmente raggiungibile Torniamo all'Aquila la chiesa di San Pietro ha coppito uno dei quarti fondatori della città verrà restituita ai cittadini nella prossima primavera un sapiente lavoro di restauro l'ha resa ancora più bella con delle scoperte di affreschi meravigliosi vediamo insieme il servizio Architetto che interventi sono stati fatti per il ripristino di questa chiesa? Interventi sono stati diversi chiaramente la chiesa è stata fortemente danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009 in particolare è collassata gran parte della torre campanaria le cui pietre addirittura sono cadute nell'edificio a fianco sfondando i solai più la sacristia più chiaramente la copertura della chiesa qui di San Pietro e poi c'è stato anche il collasso della parte destra della facciata in alto che è scesa e è venuta giù a terra ed è stato necessario purtroppo lì i conci in pietra si sono danneggiati per cui è stato necessario ripristinarla sempre con pietra locale gli interventi sono stati volti chiaramente di tipo conservativo al restauro e anche di miglioramento sismico in particolare per quanto riguarda la facciata che è stata ancorata con alcune catene alcuni tiranti nella parte appunto della retrofacciata ricostruita ovviamente la parte la parte collassata grosso lavoro è stato fatto anche per quanto riguarda la torre campanaria che era andata praticamente in rotazione provocando appunto il collasso e poi il ribaltamento della facciata laterale qui sinistra che ha reso necessario l'inserimento oltre ad una serie di tirantature anche la realizzazione di due strutture a sostegno esterne che in qualche modo proteggessero dal ribaltamento questa facciata per quanto riguarda gli elementi decorativi che interventi sono stati fatti e che cosa è emerso dai lavori il terremoto dell'Aquila oltre a darci lutti tragedie e non pochi problemi psicologici diciamo in cambio ci ha dato la possibilità di rivedere di conoscere situazioni a noi prima sconosciute una in particolare qui sulla mia sinistra è una lunetta con della certi di affresco e una in particolare sulla zona del transetto c'è proprio una deposizione intera oltretutto molto ben conservata che risultava murata ed è uscita fuori proprio grazie ai lavori di restauro è una chiesa importantissima perché è una delle chiese capoquarto anzi questa molto probabilmente sarà la prima in assoluto ad essere restituita alla città e ai cittadini le altre si trovano insomma un po' più indietro però insomma siamo fiduciosi che anche nel prossimo futuro si riescono a recuperare anche le altre chiese che insomma fanno parte del nostro ricco patrimonio storico artistico e architettonico in che data è prevista la riapertura della chiesa? a me non piacerebbe parlare di date perché ogni volta che do una data poi puntualmente viene disattesa grosso modo quasi sicuramente primavera del prossimo anno adesso la pagina dello sport ancora in gol dopo la rete decisiva contro il Foggia il difensore centrale delle Pescara Andrew Gravion è uno degli uomini fondamentali dello scacchiere tattico di Giuseppe Pillon il giocatore Scuola Inter è già sui taccuini di grandi club ma lui non ci pensa e rivolge lo sguardo alla sfida di domenica sera contro il Palermo allo stadio Barbera sentiamo Gravion grande partita anche per Gravion questa sera giocatore che sta facendo un grandissimo campionato e che è già finito sul taccuino di direttori sportivi di squadre di Serie A abbiamo fatto una grandissima partita siamo stati sul pezzo dal primo fino all'ultimo bisogna continuare così perché veramente siamo veramente in alto e domenica c'è un'altra partita importante uno scontro di diretta importante e bisogna far bene sei finito sul taccuino ti dicevo di diversi direttori sportivi di squadre di Serie A sinceramente mi fa piacere che sono finito nel taccuino di diverse squadre però ti dico la verità quest'anno penso più a una partita dopo l'altra e penso a far bene poi mi fa piacere di niente parliamo un attimo di questa partita che si è chiusa non bene ma benissimo ma che si era complicata che vi eravate un po' complicati da soli con il gol del 2 a 1 subito sul finale di primo tempo poi il 2 a 2 di Tabanelli poi questa doppia espulsione in casa Lecce ma nonostante l'11 contro 9 avete sofferto avete avuto problemi a superare la difesa del Lecce come mai? Sì, sono stati bravissimi in difesa anche i nostri giocatori in campo però noi non abbiamo molato niente abbiamo continuato fino alla fine è entrato benissimo Nando ci ha fatto due gol ci ha avuto finito la partita quindi siamo tutti contenti e abbiamo continuato a fare così fino alla fine una grande serata anche per merito di questi tifosi che vi hanno trascinato alla vittoria vi hanno incitato dal primo al novantesimo vi hanno chiamato sotto la curva dopo il tripice fischio finale di Di Paolo pubblico che state riconquistando pian piano Sì, sì io sono molto contento perché questo è il mio primo anno a pescare e vi ho veramente una curva eccezionale cioè pienissima oggi non ci credevo sono molto contento di come stanno comportando con noi e noi ripaghiamo il prezzo vincendo le partite e facendo bene sul campo io sono cresciuto con un lavoro mi sono detto se quest'anno provo a fare il mio possibile ogni partita dopo partita provo a far bene e ci penso solo una dopo l'altra cioè non penso a fare qualsiasi cosa o qualsiasi cosa di più penso più a vincere una partita poi un'altra e poi un'altra e così mi aiuta a far meglio una partita dopo l'altra domenica giocherete a Palermo la sfida più importante di questa prima parte di campionato prima contro seconda sì, domenica è veramente una grande partita dobbiamo veramente essere concentrati e essere come oggi fino alla fine e sempre sul fronte Pescara rinnovo del contratto per il centrocampista José Macin che come si vede nella foto postata su Facebook dal suo agente Donato di Campi ha prolungato il contratto con il Delfino dopo essere stato riscattato dalla Roma per il numero 10 grandi prestazioni da quando ha sposato il progetto del Pescara e per questo i biancazzurri vogliono blindarlo per proteggersi dall'eventuale arrivo di compagni di compagini scusate di categoria superiore che già stanno facendo la corte al giocatore ancora sport ancora calcio scendiamo di categoria però per parlare del Teramo domenica pomeriggio affronterà la squadra del patron Campitelli l'Albinoleff senza Lewandowski tra i pali e Di Renzo in attacco al loro posto giocheranno Pacini e uno tra Piccioni che è favorito e Barbuti il centrocampista Lorenzo De Grazia vuole subito archiviare la trasferta di fermo e pensare solo ai Bergamaschi Lorenzo quali sono le sensazioni dopo una sconfitta arrivata alla fine solo per due tiri in porta subiti quindi un po' particolare però loro sono stati bravi a chiudersi a ripartire e voi non siete stati altrettanto bravi a segnare sicuramente come detto tu non abbiamo subito molto da parte loro se non nulla però sapevamo che era una parte difficile d'altronde loro si sono primi in classifica qualcosa devono pure avere sapevamo che in quella partita erano importantissimi gli episodi e loro sono stati bravi e fortunati a trovare il primo gol in una palla inattiva in un cross messo in area e poi abbiamo subito gol però a parte quello non mi sembra che sono stati i nostri grossi errori quindi la partita era quella lì però abbiamo molta rabbia perché sicuramente potremmo sicuramente far meglio secondo te un po' nello spogliatoio qualcuno sarà esagero adesso col termine è montato la testa dopo le quattro vittorie tra campionato e copi tagli non penso siamo tutti bravi ragazzi umili in allenamento diamo sempre il massimo e sicuramente nessuno si è montato la testa dopo quattro vittorie non siamo sicuramente fenomeni non siamo nemmeno scarsi adesso che ne abbiamo persa una quindi dobbiamo continuare a lavorare in settimana per raggiungere gli obiettivi partita dopo partita già la domenica è una gara sicuramente che dovremmo vincere perché è una gara importante sicuramente l'abbiamo visto anche noi in campo che non erano superiore a noi assolutamente però la partita era quella un campo brutto stretto loro sono stati bravi solo a cogliere quell'episodio lì e potranno solo aprire in quel modo è tutto per questa prima edizione del TG6 grazie per essere stati con noi prima di salutarci vi ricordo che i nostri servizi se volete sono disponibili on demand su Youtube sul nostro canale e sul sito www.tv6.it vi auguro una buona giornata il TG6 torna alle ore 19 per la prossima Grazie a tutti.